Poniamo stagionati nelle uve di Torcolato. Dove siamo lo Caesai? A San Michele di Bassano. Quindi più o meno... Sotto ai piedi di Asiago. Non sei che arriva in buon golfiera così a caso. Si trova nella strada per arrivare ad Asiago. Per andare ad Asiago per forza si passa per San Michele. Tutti insieme, avanti, andiamo, si parte, andiamo in cantina. Allora direttore, per promuovere un territorio che vuoi fantasia, che vuoi azzardo, ma anche un po' di magia. Ha perfettamente ragione e ritengo che un luogo come questo sia un luogo che mi ha stregato dalla prima volta che l'ho visto. Allora l'invito che faccio io è di venire a visitare nel Vicentino un locale come questo, una cantina come questa, che è meravigliosa e altre che sono quasi alla stessa altezza. Allora, un bel brindisi ai nostri sogni. Sì, sì. Insomma, che avemmo capito che da qualsiasi parte che te vaghi, in ogni canton, che sei qualcosa di buon e di beo. Perché questo sei il Veneto. Tra terra e ceo. Grazie. Grazie a tutti.